il tragico incidente della galleria di urbino che ci ha lasciato tutti sconvolti ha riacceso riflettori sulla necessità di mettere in sicurezza le nostre gallerie è una tematica che io sto seguendo da tempo ed è da tempo che chiedo ad anas per esempio di adeguare nella segnaletica d'emergenza le due canne della galleria del furlo quindi con una pec ho chiesto ad anas di farlo entro gennaio altrimenti proporrò un esposto alla procura della repubblica per denunciare questo fatto perché è assurdo che una delle gallerie più importanti della nostra regione non abbia un'adeguata segnaletica di emergenza